Prima della musica, dei soldi e del successo per Fedez c'è sempre stata la famiglia. Federico Leonardo Lucia, questo il suo nome all'anagrafe, rivela di essersi assicurato il benessere della sua famiglia prima che tutto il resto. Oggi rapper, imprenditore discografico, influencer e stilista di successo, racconta il Corriere che i primi soldi guadagnati gli sarebbero serviti proprio a sollevare i suoi cari. Sono stato maturo, ho sistemato la situazione economica della mia famiglia. Poi ho fatto mille euro di shopping. Oggi evidentemente più biente rispetto a com'era gli esordi, ama investire i proventi del suo successo in tutto ciò che riesca a procurargli piacere. I gioielli, ad esempio, tanto che quando gli si fa notare di aver indossato una collana particolarmente bella, replica. Sì, mi piacciono i gioielli. Sono un povero arricchito. Ma da dove viene Federico? Nato a Milano da una famiglia semplice, e figlio di persone umili. Oggi mamma è Tamara la sua manager, mentre il padre magazziniere avrebbe rifiutato di lasciare che suo figlio gli pagasse gli ultimi anni di contributi per poter andare prima in pensione. Fu lo stesso Fedez a raccontare quegli anni. Non eravamo una famiglia da mulino bianco, abbiamo cominciato ad andare in albergo grazie al mio lavoro, prima solo in campeggio. Non erano i classici genitori che ti dicono di aspettare due ore prima di fare il bagno. mia madre lavora con me, mentre mio padre non aveva queste ambizioni. Lui fa il magazziniere, gli manca poco per la pensione. Gli ho proposto di pagare io i contributi che servono per farlo smettere, ma non vuole. I guadagni dei primi due anni li ho usati per pagare i debiti che avevamo. Da mio padre ho ereditato la capacità di vendere. Lui è un ex orafo ed era bravo in questo. Con mia madre siamo praticamente uguali. Sono un piccolo stacano, come lei. E come lei sono molto impulsivo, abbiamo entrambi le tendenze a essere guerra fondai. Nell'intervista al correre, Fedez non può sottrarsi alle domande sull'amore con le Ferragni, sua compagna, futura muore, moglie e consigliere in affari. Non lavorano insieme, ma Federico accetta volentieri consigli da lei in fatto di stile e di nuove collezioni moda da ideare e lanciare. Sa bene, però, che loro resteranno sempre mondi diversi. Se fa male alla coppia parlare di lavoro? Non sono per niente d'accordo. Ci siamo aiutati molto nei nostri lavori, abbiamo due aziende create dal nulla che oggi sono leader. Ci siamo dati una grossa mano e consigliandoci abbiamo portato molti cambiamenti rispetto a come gestivamo il business. Parliamo il giusto di lavoro e vivendo insieme è normale farlo. Ma quando c'è la Fashion Week non vado alle sfilate con Chiara, nella vita in fondo faccio altro. In queste settimane è un altro gossip che sta tenendo banco in rete e non solo. Si parla di una presunta gravidanza di Chiara Ferragni, mai confermata dai diretti interessati. La fashion influencer più famosa al mondo sarebbe n'attesa del suo primo figlio a un anno dalla romantica proposta di matrimonio di Fede Salarena di Verona. Pochi giorni fa, ospite a chi ha incastrato Peter Pan, Federico ha smentito la gravidanza dopo qualche tentennamento ma c'è chi è disposto a giurare che l'artista non abbia raccontato tutta la verità. Chi se ne frega.